Temperature che sembrano più quelle di marzo che quelle di gennaio, nonostante ancora alla fine di un inverno che forse non c'è mai stato, manchino più di due mesi. Questo però non si traduce solo in danni a strutture del settore scistico e montano, ma anche in gravi problemi causati agli agricoltori. Olivi, viti e alberi da frutto soffrono gli squilibri climatici. Piante e fiori, come la mimosa, germogliano addirittura in anticipo con le aziende che sono costrette a correre ai ripari e cambiare le loro abitudini di lavoro. Paradossalmente però si temono gelate improvvise nelle prossime settimane che potrebbero danneggiare oltremodo piante e raccolti non strutturati per la gestione del freddo e abituati al caldo anomalo di questo periodo. Fare un bilancio dei danni che potrebbe causare l'arrivo improvviso del gelo è difficile, ma l'incidenza sul volume della produzione potrebbe raggiungere il 20, 30 e in alcuni casi anche il 40%. Questo vorrebbe dire meno prodotti sul mercato e di conseguenza prezzi più alti con rincari anche per i prodotti di uso quotidiano, oltre a gravi problemi per le aziende e i produttori che già fanno i conti con carenze idriche e aumenti dei costi di produzione.